I risultati ottenuti dal porto di Trieste a livello di traffici e lo sblocco del Porto Vecchio. Secondo Ettore Rosato, capogruppo PD a Montecitorio, sono questi alcuni degli elementi su cui puntare per la riconferma di Roberto Cosolini a Palazzo Sipario. Rosato lo ha detto stamani durante una conferenza stampa tenuta assieme all'onorevole Tamara Blasina, ribadendo nel contempo la necessità che un centro-sinistra unito non distolga lo sguardo dalle realtà delle liste civiche, il tutto in un panorama che a Trieste risulta meno complicato rispetto ad altre città. Quasi che da noi il centro-sinistra sia più bravo che altrove nell'applicare criteri di saggezza anche nel pensare al proprio futuro, evitando veghe interne o fuoco amico. Noi siamo sempre stati saggi qui, un po' asburgici anche, ma io penso che qui noi abbiamo seminato in tanti anni con successo. Questi anni di gestione di Roberto Cosolini sono stati anni importanti, produttivi per la città, anni difficili in cui la crisi ha pesato anche sulle pubbliche amministrazioni, sui comuni in particolare. Cosolini ha saputo tenere il punto e portare avanti i progetti nonostante le difficoltà. Penso che questo sia il miglior viatico per affrontare con serenità la prossima campagna elettorale. Da un punto di vista nazionale, Rosato e Lablasina hanno sottolineato positivamente il lavoro del governo, soprattutto per quanto concerne le riforme della scuola e del lavoro, ma hanno anche voluto ricordare l'impegno del governo per far crescere il binomio sviluppo-cultura.